Si è tenuta nella sala aulica del Consiglio Metropolitano di Torino la 62esima seduta della conferenza intergovernativa italo-francese istituita dai governi dei due paesi per il collegamento ferroviario Torino-Lione e presieduta da Paolo Foglietta. I partecipanti alla conferenza sono stati accolti dal sindaco di Torino e della città metropolitana Stefano Lorusso. Dopo i saluti del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, del Prefetto di Torino Raffaele Ruberto e del collega Prefetto della Savoia la coordinatrice del Corridoio Mediterraneo Iveta Radicova ha svolto le sue considerazioni sullo stato di avanzamento dei lavori. Sono stati presentati e formalizzati l'impegno dell'Italia per la realizzazione della tratta di accesso al tunnel di base la programmazione dei lavori curati dalla società TELT incaricata di realizzare la tratta internazionale gli impegni e i programmi della parte francese a seguito del recente comitato di pilotaggio. È stato anche affrontato il tema della gestione delle terre da scavo nel cantiere internazionale ed è stato presentato l'avanzamento del lungo e complesso lavoro di analisi e ricerca di soluzioni condivise che ha coinvolto esperti di TELT e dei ministeri della transizione ecologica e degli affari esteri dei due paesi. Presidente Foglietta, la sensazione è che oggi si mettono le carte sul tavolo, sono carte importanti? Sì, io direi che in questo momento cominciamo a contare i punti più che le carte nel senso che stiamo chiudendo una fase importante la Torino-Lione non era già più in discussione e si stava realizzando il tunnel adesso stiamo realizzando le tratte di accesso mettendo le basi in Italia con una programmazione stringente in Francia con un annuncio in qualche misura che sarà importante ma soprattutto con il cofinanziamento al 50% dell'Unione Europea attraverso questo sistema che è l'atto di decisione e di esecuzione che è un atto molto importante ed essenziale tra l'altro vincolante nel senso che gli stati assumono degli impegni che devono rispettare. Ci si può sbilanciare a dare dei tempi adesso? La realizzazione delle tratte di accesso andrà in contemporanea con la realizzazione del tunnel di base quindi vuol dire fine dei lavori civili nel 2030 e inizio dell'esercizio nel 2031.